Enrico Di Carlo, un libro davvero pieno di curiosità? Sì, le curiosità sono tante. Le curiosità vanno per esempio dalla mancata sponsorizzazione che Danunzio fece o non fece della pasta De Cecco al legame, al rapporto non soltanto epistolare con Luigi D'Amico, con il creatore del dolce Parrozzo e Senzanome è così, anzi possiamo cogliere l'occasione per dire ad esempio che non fu Danunzio come si crede a dare nome al dolce ma fu proprio lo stesso D'Amico. Danunzio che si definisce Comandante Parrozzano. Sì, Comandante Parrozzano proprio per questo motivo. Lui si firma una lettera, una delle tante lettere spedite a D'Amico si firma Comandante Parrozzano forse anche per ancora di più far capire che cosa rappresentasse per lui il Parrozzo e noi questo lo capiamo in particolare negli ultimi versi, nella quartina finale di quel sonetto dialettale celebre, famoso perché ancora oggi accompagna le confessioni del dolce, quando scrive Benedetta D'Amico e Sanciate, oddio, quando mi attacca l'Uparrozzo, ogni mattina per Lucanna Rozzo passa la sisa dell'Abruzzamè. Il cacio rugoso della Maiella. Il cacio rugoso della Maiella è un altro argomento interessante, Danunzio era un mangiatore di formaggi ma li ricorda anche legando al formaggio degli episodi più o meno inventati della sua fanciullezza per esempio ricorda, scrive in un'opera letteraria, quando era bambino e se la dava a gambe così correva giù per la redola erbata come scrive nelle campagne paterne e ad un certo momento, mentre correva, correva, si accorge che un formaggio, ma non un formaggio qualsiasi il cacio con i vermi, questo cacio vermicoloso, come dice lui, pieno di vermi, inizia ad inseguirlo e certamente lo avrebbe raggiunto, forse lo avrebbe quasi aggredito se il piccolo Gabriele non fosse stato più svelto e non fosse riuscito a nascondersi e ad evitare il colpo.